... Aho, e già avete da lavorare? No, ma ora che se stavamo a dire... No, che se stavamo a dire... No, stai a parte, che cosa ne hai mai mai... ...faccio quello che mi pare... ...faccio quello che avevo dovuto, ma continua... ...faccio quello che mi pare... Aho, stavo a aver ricordo, che problema c'era... ...che ricordo... ...sono il problema... ...ma divertite stavamo... ...faccio... ...ma ora la patria, ora la patria... ...ma ora la patria... ...ma non ti può raccontare un segreto, non ti può raccontare... ...ma capito che sei... ...ma non sapevo... ...ma non sapevo... ...ma dove pure la vetra, la vetra è la vetra... ...semo un famiglia... ...amici che aveva cinquanta anni... ...però è di carina eh... ...è un po' che non lo voleva... ...è un po' che non lo voleva... ...urbe queste giovani eh... ...urbe... ...certo stavo a pensare... ...questa è pensare un'altra cosa... ...certo se siamo visti certi... ...funerali belli... ...belli... ...belli... ...ma l'ultimo quale è stato quello... ...come si chiamava quello... ...quello... ...quello che c'aveva la moglie... ...che faceva nei cosi... ...faceva un sacco ridere... ...come si chiamava... ...cevano fatta la lingua... ...faceva ridere quella... ...dentro al letto con i piedi... ...ma guarda pure le crepacuare... ...come si chiamava... ...è cosa... ...è Fiorello... ...ma Fiorello... ...ma mia dietro con i piedi... ...a prima... ...ma... ...vi ricordo? ...co si chiamava... ...pio Planello... ...pio Planello.... ...boy wow... ... tenían mano l'alertura... ... Crowne... ...ma Kelly... ...è Fiorello... ... lì... ...na sera c'erano un sacco di giovani... ...davanti a Adam... ...quello che a Bartoku un'incidente... ...quando ti devi ricordare... ...non mettiamo i mali... come si chiamava un po' dica aspetta quello che fa è Gianna 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 sorire la strada che asciava quant'anno come si chiamava? Milo Reitano ma Milo Reitano è un po' d'Italia ma noi lo stiamo chiamando Gaetano 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 ma che sei amico Gaetano del nome A me stai a cercare Quello che confogli perché c'è il sogno che vuole il nome non è un sogno ma te confie Ma che non ti interessa è che la palina che è da a me stai a me a me stai a me stai a me a me stai a me stai a me a me stai a me stai a me ma volete saperlo meglio di tutti meglio di tutti a me stai a scusa ma mi stai a me stai a me stai a me stai tosea rarco guarda guarda muavermi ma si andai, guarda questo sabio in realtà Non lo dico più. E dai, vado signora. Perdo soldi. E va bene. E dai, perdo soldi, guarda. Per piazzare era tutto pieno del banchiere gelato rosso. E ricevano i tassi nati. Mamma mia che pipinata quel giorno. Così sembrava di starco. Australi. E va bene, ma il meglio meglio di tutti è stato quello di Anna Magnani. Ehi, guarda Anna, ma il mio video è stato un piacere. Anna Magnani. Anna Magnani. Anna Magnani. Ma io me lo ricordo. Bella Anna. Bella Anna. Bella Anna. La sorella. Oh. Vabbè, sensuale. C'è stananima oggi eh. Ma vada a piedi ragazzi. Ho mangiato un panino. Ho mangiato un panino. Ho mangiato un po' rispettoso mi sembra no? Guarda che non parlavo con voi la stessa volta. Guarda perché ha detto come faccio una mezzurita. C'è un santo. Vado di qua. Vado a dire che vuoi capare il gazebo tuo. Con i 100 anni. Questa grazia mi ha una ragazionata. Tu. Voi trovati? Eh, ma se non sei così. E se non sei così. E se non sei così. Ma come sei così? E se non sei così. E se non sei così. E se non sei così. Allora. eh eh oh arriendo eh eh oh no 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 ehm quindi e quindi qua c'è vedo ah 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 ma questa c'era vero qui? c'è una macchina dai ma che stava con le nuove? sulle lapidi nuove con il suo lato oh my god ehi ma che stai a fare il mio ehi 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 ma che devo scavare a buco io ma io non so ma quello il minimo devo anche la lavar la roba guarda questi fiori che oh ma cominciò a parlare da sola ehi ehi ma ma che cosa si chiama allora va vecchia mi stai a far doppiare la testa mi stai ce lo dico ehi 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 ehi